Il liquido del tergicristalli può terminare all'improvviso e un parabrezza sporco, oltre a essere un fastidio per il guidatore, è anche pericoloso perché limita la visibilità. Ecco perché è importante che la vaschetta sia sempre piena. Riempirla è un'operazione semplice. Attendete che il motore sia freddo e individuate il tappo su cui è disegnato il simbolo col parabrezza e lo zampillo d'acqua. A questo punto potete riempire con acqua di rubinetto, ma se quella della vostra città è molto dura, per evitare che i condotti si intasino, potete usare dell'acqua demineralizzata. Procuratevene qualche litro. A seconda dell'auto, i serbatoi possono contenerne oltre 5. Non dimenticate di aggiungere gli additivi detergenti e antigelo, che oltre a un parabrezza più pulito evitano le incrostazioni dei condotti. Se gli ugelli sono otturati dal calcare, si può provare ad aggiungere alla vaschetta piena un bicchiere d'aceto, un anticalcare a buon mercato che non rovina la vernice. Al posto dell'antigelo in inverno si può optare per un bicchiere di alcol denaturato. Cambiate periodicamente anche le spazzole. 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 Grazie a tutti